For Life è proprio il luogo nel quale questo incontro e questa condivisione possono avvenire e quindi da questo punto di vista è sicuramente un enorme valore perché altrimenti si continuerebbe a lavorare abbastanza per Silos, quindi mi sembra una grandissima iniziativa, indispensabile e poi specialmente per una tematica così di condivisione, così vasta, così articolata come quella della sostenibilità. Allora, direi che le nuove generazioni sullo sviluppo sostenibile sono molto più sensibili immediatamente di noi, per cui il messaggio diventa difficile, però devo dire che dopo la giornata di oggi ho sentito che c'è un serio interesse da parte di molte parti sociali, non solamente degli imprenditori, perché forse finalmente si è capito che lo sviluppo sostenibile non è qualcosa che si contrappone allo sviluppo economico, al profitto, al benessere, al mondo attuale con me, quindi è qualcosa che deve essere mandato avanti insieme.